In mare fuori, qualsiasi cosa diventa dramma. Arriva c'è qui. Chiattilo, questa mattina non ha successo niente all'agolazione. Chiattilo, è l'unico che è di Milano e parla in italiano ma non si capisce. Perché a Milano anche le lettere vanno in corsa. Chiattilo, quando io parto, mi andavo guardando dagli occhi, a leggere con l'abbia. Hai capito chiattilo? E non si capisce, non cazzo, manco con l'abbia. E parte il dramma. Chiattilo, questa mattina ha la colazione. L'amico tuo, oh piegolo, ha fatto una cosa crevassata. E cosa ha fatto? Fette sensi. Teneva l'allergia. E perché si è allergica? Ha da pagare con la vita. Non sembra un po' troppo. E l'ha d'accida tu. Perché io che non so? E se non l'accida tu, o perucchi, accida te, che non ha acciso anche a te. E se o perucchi non ha accida te, che ha acciso anche a te. E se o perucchi non ha accida a cardiotrappi, che ha trovato qualcuno che ha accido a cardiotrappi, che non ha acciso anche a te, che invece non mi sta raccontando. Adesso mi sta raccontando. Adesso qui, Ciro, senta ma non si fa prima se l'accida tu direttamente a Chiattilo. Io non lo passo a Ciro. Perché io mi faccio i cazzi miei. E chi si fa i cazzi miei? E chi si fa i cazzi miei? Campa cent'anni. E si fa pure la quarta serie. E chi si fa i cazzi miei?